Ehi! Guarda che è rischioso stare qui sotto da sola. Volevo vedere te. Questo? Io l'ho capito. E anche gli altri, sai? Mi credono una maniaca. Probabilmente sono gelosi di te, delle tue attenzioni. Sì, è vero. È molto probabile. Vai a casa adesso. Si capisce? In Islanda a 14 anni è consentito fare sesso. Mi sorprende che il turismo non abbia tratto maggiori vantaggi. Certo, oggi sono un pericolo. Ma fra 22 settimane chiunque potrà farmi assolutamente tutto. Sarò così diversa fra 22 settimane. In 22 settimane un embrione sviluppa braccia e gambe. Ma è una stupida legge. Una legge ingiusta decisa da un branco di vecchietti con la toga. Già. Chi se ne frega dei giudici? Non credevo che fossi uno che segue le regole solo perché bisogna farlo. Tu hai più di dieci anni meno di me. Ho detto più di dieci. Devo andare. Aus. Dottoressa Catti, lo sai per caso dov'è il consolato islandese? Questa giovane donna, mai vista prima, mi chiedeva indicazioni. La sicurezza stava chiamando la polizia. Non farmi arrivare a questo. Va a casa. Le serve un passaggio. Così come è arrivata può tornarsene a casa. Da sola. Se ti rivedo girare qui intorno, avvertirò la polizia. Ammetto che quello sguardo mi ha leggermente eccitato. Ne vuoi approfittare? Sì, sto avulando, andiamo. Mi sono come sgonfiato. Aus, non giocarci più. Se rinuncio a giocarci, posso riavere la moquette? No. Ma se rinuncio alla moquette, posso avere lei? Grazie. Grazie a tutti